Salve a tutti e bentrovati. Oggi una sfida di quelle proprio che piacciono a me, la sono cucinata proprio a puntino e spero che sarà gradita. Bolagno, architetto, sono tre, Falcones, poeta e Gaudi, scrittore. Forse c'è qualcosa che non va, ma la sarabanda abbia inizio. Diciamo che, come avrete capito, parleremo di questi tre loschi figuri Gaudi, Falcones e Bolagno. Che cos'hanno in comune? Una città magica che ho visitato di recente e che ho ancora negli occhi e anche nel cuore. Proprio il legame tra questi artisti è Barcellona. Bolagno non solo visse lì per circa tre anni, dai 24 ai 28, ma vi ambienta un racconto, Buba, e subito voglio darvi un consiglio di leggerlo. È contenuto nella raccolta Le puttane assassine, ma è un racconto poco conosciuto. È invece, a mio avviso, stupendo. Parla di tre calciatori e quindi non solo della città di Barcellona, ma della squadra del Barcellona. Ma troverete lì proprio ad aspettarvi il gusto ironico, tipico di Bolagno e anche proprio quell'aspetto particolarmente paradossale, coinvolgente, che rende questo racconto proprio un capolavoro della letteratura, della narrativa calcistica. E anche chi, come me, non è particolarmente appassionata di calcio, posso dire che mi sono trovata lì a parteciparvi, a sentirmi parte integrante proprio dello spogliatoio di quel Barcellona mitico e importante. E quindi io davvero ve lo consiglio. Invece abbiamo Falcones. Falcones si legge d'un fiato e da voce agli oppressi. In ogni sua opera riecheggiano proprio delle tematiche sociali. Sia nei primi romanzi si trattava di soprusi feudali, la cattedrale sul mare è ambientata a Barcellona, è la cattedrale di Barcellona che trovate vicino al porto. Si parla appunto di questi signorotti feudali senza scurupolo che stupravano le donne sposate dei loro davvero miserrimi mentecati dipendenti. Che fossero braccianti a cottimo, vassalli, artigiani o mezzadri, lo sprezzo per le loro vite era totale. Non avevano nessuna dignità e nessuna possibilità di rivalsa in una società davvero feudale di inesistente mobilità sociale, senza tutele né diritti per le classi subalterne. E lo scenario naturalmente cambia, cambia perché siamo nel 1901, quindi è totalmente diverso, siamo sempre a Barcellona, con il pittore di anime. Però purtroppo i soprusi, le angherie che si perpetuano e che portano i personaggi allo stremo sono presocchè le stesse. Vedremo questi personaggi proprio nel pittore di anime a rabattarsi in situazioni estreme per violenza, per ingiustizia che davvero, come quasi nessuno sa fare meglio di Falcones, suscitano davvero un'indignazione profonda nel lettore. Il moderno è alle porte, dovremmo chiamarlo modernismo e che Gaudì abbraccia e governa davvero mette a pensè. È geniale, è proprio immaginifico questo mondo di strutture che nel pittore di anime si sviluppa, si delinea come una sorta di processo in crescita, come una sorta di sempre di maggiore consapevolezza da parte delle masse operaie che vogliono affrancarsi dai poteri dei nobili e soprattutto di questa classe borghese di ricchi ormai emergente. Qui il mostro, proprio il vero mostro, l'antagonista diciamo contro cui combattere è rappresentato dalla chiesa e dalla sua gerarchia. I privilegi dei ricchi borghesi e della chiesa si contrappongono anche però non solo alla ribellione di questi personaggi ma anche trovano ancora ragione di indignazione da parte del lettore nella mentalità bigotta del popolino, fortemente perbenista e maschilista. In tutto ciò infatti proprio al centro c'è la condizione femminile. La protagonista, Emma, detta la professoressa, una sorta di emblema dell'anarchia fatta per Sonam, mostra gioie e dolori di tutte quelle ragazze che senza la protezione maschile rischiano perenemente di essere offese, disonorate, umiliate fino ad arrivare purtroppo alla vera e propria violenza sessuale. Il pittore di anime dal canto suo, Dalmò, questo Dalmò anarchico che viene da una famiglia anarchica e che ama, è innamoratissimo di questa Emma, dipinge proprio gli ultimi, loro, i derelitti e questo lo paga anche a caro prezzo, diciamo. Invece di ricevere da loro gratitudine vedrete invece come si snoda la storia. E si legge Con il consenso di Don Manuel, Dalmò continuò a ritrarre i trinxerös, che erano tutti come maraviglias, scostanti, agitati o abiliti. Con alcuni dovete rinunciare già alla prima seduta o al massimo dopo un paio, altri gridavano, saltavano qua e là, altri semplicemente si addormentavano, alcuni addirittura si misero a litigare con lui, ma maraviglias saltò in sua difesa e ci furono quelli che cercarono di rubare qualunque cosa, da un semplice bozzetto a un disegno, ai camici sull'appendiabiti, fino a una figurina di creta o a una mattorella smaltata, qualcuno riuscì ad afferrare il bottino e a scappare via senza nemmeno aspettare la paga promessa per aver posato per l'artista. Forse fonte di sventura e di rovina a questi trinxerös, ma anche ancora sventura, il povero Dalmò, per quelle apparenze, quel mondo di meschinità borghesi derivanti da una nobiltà decadente o di stantia che non capisce davvero qual è il momento giusto per cavalcare il cambiamento. E quindi grandi meschinità e il rimanere sempre, resistere al cambiamento, arroccati sui propri principi, in modo davvero ottuso e prevaricatore. L'atteggiamento anarchico invece poi di una certa Barcellona, lo spirito ribelle dei catalani, è lo stesso, e qui arriviamo a fare un amo, almeno ci proviamo, è lo stesso, questo senso di rivalsa, di ribellione dei cileni di Allende, di cui Bolagno, essendo cileno, e non solo per questo, ma anche perché proprio vi partecipa in prima persona, si fa testimone e infatti vi partecipa e interprete. In Bolagno i libri si fondono con la vita, come abbiamo già visto nel mio altro video, quello sui detective selvaggi. Si fondono con la storia, con l'impegno politico, sociale, civile, in un intreccio di amicizie, di amori, e non ultimo il figlio, di cui fra poco vi leggerò una poesia, perché qui io, Bolagno, lo voglio trattare proprio come poeta. In qualità di poeta lui si definiva anche migliore, si definiva poeta ancora prima che scrittore. Ma al di là di quello che si definiva lui, vedremo invece che comunque davvero ci sono degli aspetti geniali che possono illuminare, commuovere in questa poesia, che è una sorta poi di testamento spirituale, questa che vi leggerò, ma vi invito comunque a leggere le poesie di Bolagno. E quindi, se per Falcones è l'arrazzo meraviglioso della storia, di cui lui è scrupoloso, attento, innamorato, studioso, noi lo tessiamo con lui, questo arrazzo, ci innamoriamo via via che proseguiamo proprio nella lettura del dissidio di Delmò, ceramista, pittore di anime, intrappolato tra il mondo di Emma, la donna amata, con cui condividerà poi a un certo punto la lotta operaia, ed è diviso tra questo e tra il mondo della fabbrica di ceramiche di Manuel Bello, ricco borghese, cattolico, conservatore, che tra l'altro non fa che parlare male di Gaudì. Siamo nel 1901 e quindi vediamo come si esprime Manuel Bello. Cosa intendete dire, si stupì Dalmò? Intendo dire che mentre c'è chi rispetta il nostro lavoro e ci ordina pezzi e disegni, dice Manuel, e ci ordina pezzi e disegni, speriamo che continui così, Gaudì raccoglie scarti di fabbriche e di laboratori per coprire le sue opere con quello che lui chiama Trencadis, un mosaico male assortito, composto di cocci rotti e rimasugli di ceramica, vetro e porcellana. Dalmò conosceva questa tecnica inventata da Gaudì e gli piaceva. Quel miscuglio di frammenti era sorprendente, a volte anche inquietante, ma riusciva sempre a meravigliare il colore, la disposizione, anche il fatto di poter fantasticare sulla provenienza di ogni pezzetto, nella vana speranza proprio di ricostruirne la storia. È una tecnica nuova, modernista, disse Dalmò, tentando di difendere il grande architetto. Figliuolo, lo interruppe Manuel, il Trencadis non è altro che una variante del zellige marocchino che da noi è stato introdotto secoli fa dagli arabi. Il fatto è che Gaudì è di una tirchieria ossessiva, non parla d'altro che di fare economia. Quindi vedete, qui addirittura nell'ironia si parla di questi frammenti come quasi un riciclaggio per tirchieria che Gaudì opera. Ma ora così nell'economia del video chiediamoci però perché io vi propongo questi tre, oltre che perché mi diverto a far dialogare artisti tra di loro, mi propongo di farvi investigare proprio l'arte in tutte le sue espressioni e farvi intraprendere proprio questa strada artistica che poi andrete naturalmente ad approfondire voi se vorrete, cioè non si esaurisce nel video. Al centro proprio infatti di questi tre uomini latini troneggia che cosa? Il fermento artistico è che il fulcro e l'anima proprio delle loro opere che d'altro canto rappresenta proprio l'energia del cambiamento che supera gli irrigidimenti classicistici, stantii, incapaci di rispondere alle nuove istanze, quelle istanze di pensiero che invece risultano molto stimolanti per Gaudì, per i personaggi di Falcones nel pittore di anime e anche per Bolanio. In Gaudì diventano pietra, lo rendono unico proprio, con le sue forme tanto ardite, per quanto ne dica Manuel Bello, nella Pedrera o Casa Milà e sono, anche se così originali, così strambe, particolari, anche altrettanto naturali, fresche, semplici, nell'essere azzardate e visionarie. Quindi davvero una potenza, una forza narrativa della sua architettura che racconta la storia universale e che ci troviamo anche, questa stessa storia universale, questa anima mundi, nella poesia e nei romanzi di Bolanio, che coinvolge il fruttore, sia esso un pittore, sia esso un lettore, fin nel pidollo. Inoltre, sia Bolanio che Gaudì ci trasformano in detective. E infatti diventiamo straordinari investigatori, sensibili, acuti, stimolati a scoprire ogni piccolo particolare. Nell'architettura di Gaudì troviamo sempre nuove scoperte che ci sollecitano la curiosità, la meraviglia, la bellezza, il senso della bellezza. E così in Bolanio. E infatti solo un poeta o un lettore di poesia o uno scultore o un architetto o un artista del loro calibro ci guiderà proprio in una caccia al tesoro, a rintracciare in un'atmosfera proprio pregna di segnali, di simboli, quell'ennesimo particolare nascosto che ci era sfuggito e in una continua sfida percettiva forse in questo magari la prima volta non eravamo pronti a cogliere quella parola che Bolanio ci aveva lanciato o quel segno oppure eravamo presi da altro ma comunque in loro e anche in noi quando li leggiamo o li contempliamo non c'è ombra di ignavia di inettitudine e non ci può non ci può assalire credetemi non abbiamo in loro in effetti né ansia di prestazione né senso di inadeguatezza perché loro sono degli artisti sicuri di quello che stanno facendo comunque la sfida per loro non è superarsi ma essere e saremo noi stessi statene certi saremo e sarete stimolati e sicuri quanto basta proprio per ricercare con divertimento passioni tracce di noi del cosmo che ci pervade che ci parla che a volte ci addolora altre ci diverte spesso ci sconcerta ci lascia incompiuti e commossi in Gaudì la storia fa da filtro come per Falcones la ricostruzione dei fatti fedele per certi versi che non vuole non intende tradire la memoria e nemmeno la tradizione a cui si rifà soprattutto il medioevo per entrambi si trasforma però in qualcosa di altro alla luce degli occhi dell'uomo contemporaneo si trasforma in un mezzo in un espediente e quindi seppur si rievocano mostri draghi fondali marini mi sto riferendo al parco Guell di Gaudì o comunque alle sue opere salamandre foreste la casa di Ansele Gretel quindi un richiamo anche al fiabesco oltre che al medioevo e alla storia tutto ciò può creare non lo nego un senso come di smarrimento ma mai e poi mai di estraneità che per noi che attraversiamo casa Batlò i fondali blu che paiono modellati proprio dalle onde mentre in casa Milà ci sembra di esserci calati in grotte raffinatissime scavate nella roccia che ricordano vagamente il colore delle ossa e egli proprio supera l'etichetta di modernista assorbe il liberty in un modo tutto suo originale ma discosta completamente da ogni possibile etichetta creando un legame uomo mondo arte natura davvero miracoloso e anche qui un paragone con un'altra arte voglio essere ancora più ardita con la musica perché l'armonia i ritmi che si susseguono li rintracciamo nell'architettura di Gaudì come nella poesia di Bolagno e ci sono ritmi sonorità variegate sempre nuove armoniose una musica orchestrata magistralmente dal nostro Bolagno un ritmo che ci avvolge ci sommerge di personaggi ci coinvolge in vicende viaggi ricchissimi avventure divertenti drammatiche o scene l'abbiamo visto nei detective selvaggi e ci fa sentire ci fa sentire la vita il palpito e anche del tutto privo di senso di inadeguatezza proprio a suo agio in un linguaggio che si traduce in modo naturale spontaneo un flusso in cui noi siamo trasportati proprio senza fatica ma non solo per il divertimento di guadare il fiume di parole certo questo è parte integrante se non vi divertite è inutile che fruite dell'arte non è che siete obbligati la cultura deve piacere deve appassionare deve divertire ma non è un divertimento fine a se stesso è parte integrante delle poesie della prosa dell'architettura dei romanzi perché la letteratura non è altro da sé Bolagno ce lo dice la letteratura salva la vita perché in essa la vita scorre e penetra l'arte e vita per Bolagno è come per Gaudì e ora il figlio di Bolagno Lautaro ci connette con l'universo appunto con questa anima mundi e con quella materia libresca che ci rende partecipi complici e ricercatori perenni e che ho già letto o che non leggerò mai libri perché legga mio figlio la biblioteca di Lautaro che dovrà resistere ad altre piogge e ad altri caldi infernari così la consegna è questa resistete cari librini attraversate i giorni come cavalieri medievali e prendetevi cura di mio figlio negli anni a venire e ancora andiamo ora nel parco Gaudì che cosa fa? sa modellare la collina perché possa convivere al meglio questa collina questi ambiente naturale con le architetture che vi inserisce lui stesso e che sembrano emergere direttamente dalle viscere della terra questa sensibilità straordinaria è la stessa che si posa sui conignoli di casa Milà la pedrera fino a trasformarli in qualcosa di simile alle rocce e rose dal vento e nessuna limitazione stilistica né per Gaudì come per Bolagno entrambi posseggono un paesaggio interiore e riescono a riversare nella materialità percettiva di questo nostro vivere proprio questo slancio questo palpito sono delle personalità spiccate che hanno in mente un progetto e lo realizzano al punto da lasciarlo anche volutamente incompiuto e senza privarlo di una virgola della sua bellezza come quasi sperassero in una staffetta in un passaggio del testimone dove non devono per forza essere i protagonisti ma dare il via essere apri via per poi dare spazio ad altri a una comunità di artisti di interpreti e tutto quasi tutto si è detto della spiritualità del misticismo di Gaudì e quindi non ho io certo qui la pretesa di suggerirvi nulla di nuovo ma solo di farvi soffermare su certe suggestioni questo aspetto spirituale non significa per noi solo religioso adorante un dio in particolare per Gaudì si certo lui è sepolto nella sagrada famiglia ma il suo dono il suo messaggio proprio in cui ha intriso la sagrada famiglia va bene al di là di di un senso solo di di preghiera verso Dio che già è un qualcosa di notevole accomuna tutte le anime è un capolavoro assoluto e senza uguali di universalità e ho letto andando a Barcellona che molti visitano la sagrada famiglia solo dal di fuori e io davvero vi dico vi do questo consiglio mi permetto se passate da Barcellona e avete anche poco tempo usatelo per la sagrada famiglia dentro e fuori vi rivelo che io quando sono entrata dopo aver visto la facciata della natività e girato un po' attorno all'esterno mi è salito davvero un groppo alla gola perché appena varcata la soglia mi sono sentita in questo bosco come è stato definito bosco di pietra dove la luce penetra tra i rami di queste strutture una luce colorata e davvero magistralmente armonizzata tra i colori caldi i colori freddi una sorta di simbiosi e quindi non ho potuto non commuovermi non sentirmi davvero avvolta abbracciata da questo bosco meraviglioso luminoso davvero toccante non solo bella e quindi ecco questo è il misticismo il mondo esteriore pungola l'interiorità di questi autori e anche la più refrattaria a fuoriuscire a diventare attraverso la vista luce spazio non può non farlo e anche per chi tra di voi è più realista più col piedi per terra diciamo basti dire che comunque questo architetto utilizza un linguaggio narrativo spirituale semplice istintivo riproducendo delle strutture geometriche del tutto insolite che però rimandano a quei fenomeni della natura su cui sovente l'uomo contemporaneo posa il suo sguardo distrattamente schiacciato da preoccupazioni rumori della quotidianità che lo allontanano sempre più da quel mondo magico colorato smaltato che invece Gaudì ci ci dona e che fa proprio parte integrante di quell'immaginario che rintracciamo ritroviamo poi in ognuno di noi un altro aspetto che mi ha colpito riguarda un dato biografico io non mi soffermo mai molto sulla biografia degli autori di cui prendo in esame certo un po' tutto però non in particolare ma questa cosa mi ha colpito l'uomo in origine l'uomo in origine di Bolagno egli stesso infatti ha fatto diversi mestieri il padre era camionista ex pugile era un pugile dilettante e non leggeva se non qualche romanzo western le origini umili di emigranti analfabeti Bolagno non le nascose e soprattutto appunto la parte del padre l'origine operaia della famiglia del padre e la madre invece era una lettrice ma lui imparò a leggere da solo a tre anni e a sette racconta di aver scritto il suo primo brano il raccontino in cui si parla di galline che si innamorano di un'anatra e poi naturalmente dà vita a un mondo il mondo itinerante il deserto la vita nomade i camion del padre che va in panne il deserto o ancora il tema dell'esilio che si lega a quello dell'essere orfani e quindi ancora una volta il pubblico e il privato queste due dimensioni politica e famiglia si danno manforte e quindi ci si dice ma come accostarsi al mistero al mistero della vita che ci accomuna tutti che ci rende tutti uguali e al contempo diversi bisogna leggerlo questo bolagno lui ci svela tanti segreti se saremo bravi detective naturalmente e come bisogna leggerlo come trassognati come guerrieri sonambuli e lui ci salva anche e proprio suo malgrado nella consapevolezza che siamo perduti non abbiamo certezze se non quello della morte e quindi viaggiamo nel vuoto di questo di questo abisso in mezzo alle bombe e allora leggiamo una delle poesie più belle per me di Bolagno Godzilla in Messico ascolta questo figlio mio le bombe cadevano su città del Messico ma nessuno se ne rendeva conto l'aria portò il veleno attraverso le strade e le finestre aperte tu avevi appena mangiato e vedevi alla tele i cartoni animati stavo leggendo nella stanza accanto quando seppi che andavamo a morire nonostante il malessere e la nausea strisciai fino alla sala da pranzo e ti trovai sul pavimento ci abbracciamo mi domandasti cosa accadeva e non dissi che stavamo nel programma funebre ma che stavamo iniziando un viaggio nuovo insieme e di non avere paura andando via nemmeno la morte ci chiuse gli occhi che cosa siamo mi domandasti una settimana o un anno dopo formiche api cifre sbagliate nella gran zuppa potrefatta del caso siamo esseri umani figlio mio quasi uccelli eroi pubblici e segreti e così Gaudì anche lui proveniva da una famiglia di calderai io posseggo ci dice in una sua testimonianza questa qualità di vedere lo spazio perché sono figlio nipote pronipote di calderai tutte queste generazioni di uomini di spazio hanno definito la mia preparazione il calderaio è colui che da una lastra piana compone un volume prima di iniziare il suo lavoro lo ha già concepito nello spazio immancabilmente quindi vedete la storia personale si mescola con quella pubblica e con i segreti dell'immenso che ci pervade prendo congedo sperando quindi di aver acceso in voi proprio la medesima passione dei detective selvaggi del pittore di anime dell'architetto di dio del poeta e di aver anche acceso in voi stimolato la voglia di sondare il mistero della vita amandolo in ogni sua fibra in modo sempre nuovo attenti proprio accogliene i segni minimi particolari i simboli e anche il meraviglioso canto la musica l'armonia concludo con una poesia di Bolagno pioggia piove e tu dici è come se le nuvole piangessero poi ti copri la bocca e affretti il passo è come se quelle nuvole scarne piangessero impossibile ma allora da dove viene questa rabbia questa disperazione che ci porterà tutti all'inferno la natura nasconde alcuni suoi procedimenti nel mistero suo fratellastro così questa sera che ritieni simile a una sera della fine del mondo prima di quanto credi ti sembrerà soltanto una sera malinconica una sera di solitudine persa nella memoria lo specchio della natura oppure la dimenticherai né la pioggia né il pianto né i tuoi passi che risuonano sulla strada della scogliera hanno importanza ora puoi piangere e lasciare che la tua immagine si diluisca sul parabrezza delle auto parcheggiate lungo il paseo marittimo ma non puoi perderti alla prossima namaste non puoi